Noi lo sappiamo che tu non volevi fare del male a Lorenzo, però ci vuoi dire perché l'hai fatto? Preside, è inutile continuare. Maria non lo vuole dire. Quelle sono cose tra bambini. A me sembra proprio che lei non se ne renda conto. Qui c'è un bambino che si è lussato una spalla. L'abbiamo dovuto portare in ospedale. E quindi mo' come fa? Non c'è scurdam che la bambina è già monitorata dai servizi sociali. Lo sa c'è. Sono una mia cugina. Non vogliamo la chiamiamola la colana. No, 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 aspetta. La farnia capite? Io non ce la faccio più con te. No, ma tu non sei bene a fare niente. Tu la mamma non la sai fare. Io mica rischio di perdere il mio lavoro per fregare a voi. Le truffe non sono state mai. Io non le faccio queste cose. E se succede qualcosa io la risolvo sempre. Vuoi sentire una canzone famosa del mio paese? Maria, restate la scena. Tutta questa luce. Maria, tutto sta luce. Maria, se ci sa di non succederebbe un burdello. Maria! Ehi, calma, calma. Che è successo? Riesci? Tuo avvocato a telefono non risponde. Due giorni. Come non risponde? Non c'è, lui non c'è. E' un genio. Ha rotto l'avvocato! Carmi, ma che cazzo ne sa? Oh, ma sei scema a parlare così cosa a telefono, non è? Vuoi mettere in dei casino pure a me? Ma non sta il biberoghi? Oh, ma chi si sta? Sono chi il biberoghi? Cosa serve? Io mi posso fermare? Io devo continuare. Tu? Ecco bufato. Me la porto io le persone? Ricciarei, ma che non è una cosa facile. Io tengo un contatto buono alla moschea. Questo è uno che mi può portare tutti i musulmani che arrivano. Non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Maria! Mama! Maria! Vai la camera! Maria! Maria! Vai, 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 vai! Vai tranquilla!